musica 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 vai vai va va vai vai questo è quello da Riccardo, guarda il più brutto del Reino. No! No! Aspetta, si è ribloccato il trapano. Perché si è bloccato il trapano. L'abbiamo votato, siamo stati i primi. Il nostro è una macchina da battaglia, se la guardi. No, non lo becchino a questa volta. L'avevano lasciato in file. Vediamo se riescono a buttare giù il nostro. Perché no? È perché è più difficile. Qui si va buttando giù? Noi, lo tiriamo anche a te. No, l'abbiamo buttato giù. No! Non lo colpisce il nostro. Questo non lo colpisce, non lo colpisce. L'ho messo in discorso. L'altro non lo colpisce, non lo colpisce. Non lo colpisce, non lo colpisce. Non lo colpisce, non lo colpisce, non lo colpisce. Scominciamo a toccare quando arriva. No! No! No!